Con Vittoria Torsello e Teresa Di Mauro per presentare il loro documentario La propaganda del gas. Bentrovate! Ciao a tutti e a tutti! Che inchiesta avete fatto? Cos'è questo documentario? C'è una videoinchiesta sulla parte di Grecia e Italia Albania del gasotto trans-adriatico. Ci siamo soffermate sugli impatti non solo ambientali ma anche sociali ciò che ha permesso la costruzione di quest'opera nonostante le contestazioni. Abbiamo voluto approfondire di più con questa investigazione, principalmente questo tema perché consideravamo non normale che un'opera del genere continui a ricevere fondi da grandi istituzioni come l'Unione Europea in quanto soprattutto grazie all'attività, forza attività di lobby che viene fatta a favore di quest'opera da qui appunto il nome propaganda del gas che fa riferimento appunto alla forte attività di lobby e al potere imposto dalla multinazionale. Com'è nato il progetto di documentario? Il progetto di documentario è nato circa uno o due mezzo fa. Io e Vittoria a quel tempo vivevamo insieme a Praga e ci siamo ritrovati. Volevamo lavorare sui continui investimenti come un po' già accennato nell'istettore del gas nonostante appunto sia assolutamente necessario lasciarsi alle spalle i combustibili fossili e appunto ci ha cascato un po' l'attenzione sulla volontà della multinazionale di raddoppiare la capacità della portata del gasotto. Tutto questo soprattutto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi di questa necessità che poi si è presentata di ancora di più differenziare gli approvvigionamenti energetici. Quindi è stato un po' in quel contesto che siamo tornati a parlare di TAP ma della vicenda TAP nel 2016-2017 all'epoca delle contestazioni soprattutto a Melendugno però poi ecco dal momento che è entrato in funzione del gasdotto di tutto questo megaprogetto non si è saputo più molto e quindi abbiamo voluto appunto riunire un po' i puntini su questa questione. Dal documentario emergono un paio di argomenti. Da una parte l'interessamento di terreni agricoli appunto in cui passa il tracciato e poi la promessa di opere di compensazione che però non ci sono mai state. Sì appunto dal punto di vista sociale siamo soffermate principalmente su questo su il ricatto che porta avanti questo multinazionale o comunque la posizione di potere che si instaura fra quest'ultima e poi determinati territori che non sono appunto abituati a ricevere queste richieste e quindi questi ricatti di appunto terra a lavoro anche perché appunto il TAP prometteva più lavoro prometteva abbassamento delle bollette eccetera in determinati territori magari particolarmente marginali è un qualcosa che ha fatto in modo che si instaurasse bene anche in seguito a una propaganda mediatica dovuta a una crisi dei media e anche quelli che hanno creato un terreno fertile per l'instaurarsi di questa compagnia privata poi appunto che ha approfittato delle mancanze del pubblico e tuttora ne ha approfittato, tuttora ci sono investimenti sul territorio nel momento in cui il pubblico non riesce a dare una risposta a questi territori quello che ci è sembrato più evidente da questa contraddizione era appunto i terreni agricoli e l'espropriazione senza neanche un avviso e le scarse compensazioni che mettono in difficoltà soprattutto chi di quella terra ci viveva soprattutto le storie diciamo più forti da questo punto di vista erano in Grecia ed Albania che ci hanno anche molto aiutato a appunto focalizzare l'importanza della storia su questo aspetto e a non lasciarlo da parte come invece si tende a fare quando si parla appunto di questo argomento Inoltre non solo l'opera si è compiuta ma ha lasciato anche dietro di sé uno strascico giudiziario che vede coinvolte più di 60 persone che hanno dato vita alle mobilitazioni allora contro il progetto Sì esatto ci sono ancora dei prepossi in corso al Tribunale di Lecce uno appunto contro gli attivisti che si sono opposti come appunto dicevi all'opera in fase di costruzione che in realtà a me non giugno comunque hanno continuato e continuano a combattere l'imposizione della multinazionale su quel territorio e poi ce n'è un altro parallelo che è contro i dirigenti della multinazionale e delle aziende ad essa collegate L'equilibrio e la velocità tra questi due processi è stato veramente ampio il processo contro gli attivisti praticamente si è concluso nella metà del tempo forse anche in realtà meno rispetto a quelle mesi contro la multinazionale che è ancora in corso e che è la prescrizione Per saperne di più sul vostro documentario anche in vista di possibilità di uscita in sala ci sono dei riferimenti web? Sì la pagina del Premio Morrione ha tutti i riferimenti principali diciamo che non è uscito su nessuna piattaforma al momento perché ci teniamo a farlo girare più ai festival e a organizzazioni o situazioni che sono interessate a proiettarlo fuori da determinati canali quindi anche da questo punto di vista ne approfittiamo se c'è qualcuno interessato a proiettare il nostro lavoro noi siamo più che disponibili il documentario La Propaganda del Gas un saluto e un ringraziamento alle registe Vittoria Torsello e Teresa Di Mauro a presto grazie ancora ciao grazie a voi